Una serata d'eccellenza quella che sta per avere inizio qui a Samnium Resort, una serata dedicata all'esperienza del gusto. Avremo un'esposizione di artisti e un menù particolare, un menù assolutamente stellato realizzato da Luciano Vigliotti, lo chef stellati, che lo aiuteranno nella realizzazione di quello che avremo poi la possibilità di gustare a tavola. Buona serata a tutti. Siamo in una cornice molto molto particolare, molto bella. In diversi momenti ci sarà sia la forma artistica che la forma gastronomica. Ho la mia partecipazione con lo chef Vigliotti, con il dottor Righi, con una sorpresa di un medico che lo fa per passione, quindi una serata molto molto divertente. Blu Maniche che è il tema della serata. Poi man mano possiamo vedere altre mie opere che esprimono queste persone che praticamente sono un po' trascurate dalla società, sono emarcinate dalla società. Io e il dottor Righi ci occuperemo di un piatto insieme ovviamente a degli chef che lo fanno per lavoro, quindi cercheremo di fare il meglio possibile. Quello della cucina è un'arte che si distrugge, quindi è un'arte istantanea, ma dietro c'è senz'altro idee e un grande lavoro. Stasera avrò il grande onore di cucinare con Nino Di Costanzo, chef del telemissione della new maison di Ischia, e insieme a lui abbiamo progettato un menù che si avvicini molto all'arte nel senso visivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.